ma quando dovevi finire qua? 17 e 15 hai aperti questi, chi ha mangiato questi? due io e una papà senti che fai oggi da laca? ho troppo da fare in epica fai matematica, ti porti matematica giù e fai quelle cose in matematica che devi fare si e poi con me fai spagnolo si eeeh fai qualcosina in epica va bene? va bene ok ok va bene va bene va bene va bene va bene